Ciao, sono Marco e oggi come vedete non sono nella postazione dove sono di solito a fare video ma sono in ufficio, sono qui insieme ai miei colleghi negli uffici di T-Soul e quindi oggi dato che ci saranno un po' di mansioni da fare qua al computer non registrerò uno dei video tradizionali, però non posso comunque mancare il mio appuntamento con il tè e dovrò quindi bere qualcosa anche un po' per aiutarmi a mantenere la concentrazione mentre sono qua in ufficio e per questo che cosa faccio oggi? Oggi vado a bere questo matcha, un matcha in un formato molto pratico che appunto è una novità sul nostro sito e è stato appunto caricato da poco e ecco la comodità che permette un formato di questo tipo è che qua abbiamo già dentro 2 grammi di prodotto quindi è una dose molto comoda e facile sia per essere preparata tradizionalmente quindi secondo le diverse preparazioni di cui abbiamo già parlato in un video precedente oppure in un modo anche più rapido, veloce e comodo in qualsiasi situazione, infatti userò questo contenitore, questo termos per andare a prepararlo adesso e appunto come vedete io tengo una bustina in mano ma questa la potete avere sia singolarmente sul nostro sito oppure in un pacchetto invece che potete prendere fatto di 20 bustine come questa che appunto magari ci si porta avanti e si fa scorta per l'ufficio, per comunque è davvero molto comodo anche alla mattina perché ha poco tempo per far colazione e in pochissimo è pronto e adesso io ho già aperto una di queste bustine per farvi vedere un po' il matcha che vi è al suo interno e ve lo volevo proprio far vedere perché ha un colore verde molto brillante, molto acceso e come sappiamo spesso quando vediamo questo in un matcha ci indica che appunto la qualità del prodotto è molto alta, infatti qua stiamo parlando comunque di un grado cerimoniale di matcha, si può ovviamente utilizzare anche per ricette ma ecco verrà davvero molto buono anche fatto singolarmente con solo acqua calda e adesso quindi ecco cosa faccio, vado a prendere il mio termos e ci vado a versare dentro appunto il contenuto di questa bustina che si può oprire sia a mano o comunque adesso qua in ufficio avevo a disposizione delle forbici quindi vado a utilizzare quelle per un taglio più preciso, ecco qua, quindi vedete che è molto comodo perché posso andare a versare il mio matcha all'interno del termos, ecco e una volta versato con l'aggiunta di acqua calda posso prepararlo, anche qui ecco non ho nessuno strumento apposta per diciamo miscelarlo e incorporarlo all'acqua però la comodità sempre di questo strumento mi permette di una volta che ho dentro acqua e matcha chiuderlo molto bene perché se no va a finire un po' ovunque e appunto agitandolo in questo modo riesco a comunque ottenere il mio matcha ben miscelato con l'acqua oppure potete anche vedere sul nostro sito ci sono dei frullini elettrici che sono molto comodi perché sono immersione e potete con quello andare a miscelare meglio in modo ancora più accurato il nostro matcha, ecco quindi vedete non è servito neanche tanto tempo, il colore è già diventato bello intenso, ci sono dentro ancora magari delle parti non perfettamente sciolte ma posso tranquillamente andare a scuoterlo ancora più energicamente per ottenere il risultato finale ma adesso possiamo già andare a berlo, lo proviamo insieme, ecco qua, ha comunque fatto la tipica schiuma da matcha sulla sua superficie, adesso andiamo a provarlo ottimo, allora ricordiamo ho utilizzato un'acqua a una temperatura di 80 gradi circa, questa preparazione appunto è stata fatta su questo termos che ha una capienza di circa tra i 300 e 400 millilitri e niente ecco ho poi agitato e adesso infatti il sapore che ne viene da questa preparazione è davvero molto vegetale, punta molto su alcune note vegetali e appunto non ha magari quell'impatto più forte che può avere preparato tradizionalmente con anche delle parti amare, qui l'amarezza non c'è, ma si ha questo effetto molto vegetale pronunciato, seguito poi però dalla classica dolcezza e sapidità che invece può dare un tè matcha ecco, quindi come avete visto una versione molto pratica, adesso io torno al mio lavoro e noi ci vediamo a un prossimo video, ciao!